Dopo la vittoria del centrosinistra in Emilia per la campagna chiamata al voto in primavera si aprono scenari nuovi. La ricandidatura del governatore uscente Vincenzo De Luca si rafforza, ma dal PD nazionale il segretario Zingaretti avverte dobbiamo puntare ad alleanze più larghe possibili rivolgendoci alle forze di maggioranza ma anche alle forze civiche. De Luca ha subito colto l'appello e si è rivolto agli elettori del Movimento 5 Stelle e stamane da Benevento ha dichiarato sono pronto a candidarmi ormai da cinque anni. Tra i grillini in forti crisi di identità in queste ore avanza il fronte del dialogo e perde consistenza la candidatura del ministro dell'Ambiente Sergio Costa. Il segretario napoletano del PD Marco Saracino incalza, ora i 5 Stelle devono decidere da che parte stare. Ma la sensazione è che prima degli stati generali di marzo non si deciderà nulla. Anche le sardine si interrogano su cosa fare, quelle napoletane molto vicine ai centri sociali e a De Magistris spingono per un nome diverso da De Luca sulla scorta dell'esperimento ruotolo alle supplettive del Senato. De Magistris caldeggia questa soluzione ovviamente e al Movimento 5 Stelle consiglia in sostanza di rinunciare a presentarsi alle regionali. Mi permetto di sottolineare prima di passare alla Calabria il crollo quasi ai limiti della scomparsa del Movimento 5 Stelle in Emilia Romagna considerando che è stata una delle terre in cui loro erano fortissimi. Vederli al 3% è qualcosa che non si può banalizzare come una mera sconfitta elettorale, molto di più. Il 7% del Movimento 5 Stelle in Calabria non li fa entrare nemmeno in Consiglio regionale, quindi parliamo di una sconfitta che vedendo anche la crisi di identità di quel movimento fa riflettere anche se ci sono le condizioni per presentarsi in maniera forte alle prossime regionali. Grazie a tutti.